Ciao, buongiorno e ben ritrovati. Chissà che magari qualcuno di voi il 4 gennaio era in piazza Maggiore e ha visto una bellissima iniziativa di un'associazione sportiva dilettantistica che si chiama Slackline Bologna. Li hanno chiamato i funamboli moderni in molti. In realtà lo Slackline è una disciplina molto diversa, molto bella, molto spettacolare e proprio per parlare di questa disciplina oggi abbiamo ospiti due dei soci fondatori di questa associazione sportiva, Matteo Pancalli e Simone Vaccari. Buongiorno e benvenuti. Buongiorno. Abbiamo detto che probabilmente molti che quel giorno passavano in piazza Maggiore hanno visto questa Slack, questa fettuccia, 25-30 metri quanti erano d'altezza? Sì, l'altezza erano 25 metri. 25 metri e voi che non solo camminavate su questa fettuccia ma facevate anche dei trick. Insomma, vi hanno chiamato i funamboli moderni, ho detto. In realtà, guai, nel senso lo Slackline è una cosa completamente diversa. Beh, certo. Per chi non la conosce probabilmente può cambiare poco da vedere un funambolo a vedere uno Slackliner. In realtà la differenza principale è che i funamboli camminano su un cavo d'acciaio teso e hanno anche il manubrio o il bastone, adesso non ricordo bene. Mentre noi siamo su una fettuccia che può essere o di poliestere o di dainima o di nylon, che è spessa, è larga 2,5 cm e può essere lunga a seconda delle esigenze e di quello che si vuole fare. Nel caso di piazza Maggiore era lunghissima, perché siete andati da piazza Maggiore a… Abbiamo dovuto mettere un autogru perché non c'erano degli ancoraggi che potevano andare bene, precisi e quindi sì, però abbiamo attraversato tutta la piazza. Simone, voi avete portato in piazza questa disciplina, non è la prima volta, lo avete fatto anche in altre piazze perché volete un po' condividere con tutti l'amore per questa disciplina che a voi ha dato tantissimo, oltre ad aver creato una bella comunità di giovani che stanno insieme, stanno all'aperto, rispettano la natura, insomma, poi di questo ne parleremo più avanti della filosofia. Però cercate comunque di portarla un po' in tutte le piazze. Ma oltre che portarla in tutte le piazze è proprio farlo condividere da tutte le persone perché a mio avviso a me la Slackline mi ha aiutato molto a livello anche personale. e ti fa vedere la vita da un altro punto di vista, sia anche a livello di comunità, perché comunque noi stiamo pian piano diventando una comunità, perché comunque non ci sono solo persone che fanno Slackline, ma ci sono tantissime altre persone che fanno altro. e questa cosa dà valore alla comunità in cui si sta creando, perché effettivamente non essendoci solo persone che fanno Slackline, ma ci sono altre attività, questa è una cosa che a mio avviso è molto importante al giorno d'oggi. e a livello personale aiuta, aiuta molto, perché è una disciplina che ti dà, devi essere concentrato, ti fa sentire importante. ma credo anche insomma al fatto di lavorare anche sull'equilibrio, suppongo sia una... Sì, sì, anche a livello di equilibrio, questo è l'equilibrio è... perché la mente insomma conti anche, oltre ovviamente ad avere il fisico, conti anche proprio mentalmente, un certo tipo di approccio. Sì, sì, oltre che ti aiuta, a me proprio mi ha aiutato nel concentrarmi di tutti i giorni, cioè mi aiuta sempre, e questo secondo me è una cosa che a molti giovani potrebbe aiutare molto nei giorni nostri in cui siamo, perché con l'era della tecnologia e di tutte queste cose stanno portando a una inversione della vita dal mio punto di vista. e essendo sempre a contatto con la natura, essendo sempre fuori, fai delle cose naturali. E quindi questo ai ragazzi servirebbe tantissimo. A noi è un modo di vita che io non ne posso più fare a meno, come anche Matteo, credo. Le discipline che richiedono comunque concentrazione, insomma un po' come nello yoga qua, mi riattacco a quello che dicevi tu, perché mi raccontavi prima che tra le discipline comunque che si sono un po' mescolate, c'è anche l'acroyoga, insomma il fatto di liberare anche un po' la mente in quel momento è sicuramente una cosa che aiuta anche alla tranquillità. Diciamo che sì, praticare la slackline ti porta a raggiungere anche un equilibrio mentale oltre che fisico, perché è un po' una metafora della vita, devi stare in equilibrio su questa fettuccia senza cadere. Ogni minimo errore puoi cadere, no? Come nella vita in realtà, perché insomma devi fissarti degli obiettivi, cercare di raggiungerli nella maniera che ti viene magari migliore, anche per come sei fatto e predisposto. Insomma grazie alla slackline io sono riuscito a portarlo nella mia vita questa cosa, a darmi l'obiettivo di arrivare in fondo alla fettuccia senza cadere o darmi l'obiettivo che nel mio caso è stato avere più tempo libero, quindi trovare una situazione lavorativa che me lo potesse permettere per lavorare su me stesso. E poi intorno alla slackline, come dicevamo, si è creato tutto l'ambiente dell'acroyoga, lo yoga la mattina, facciamo un sacco di escursioni, di giri. Certo, peraltro stiamo vedendo adesso delle immagini bellissime. Mi riallaccio a quello che dicevi tu, no? Il fatto di trovare che sia una metafora della vita, di trovare comunque l'equilibrio, eccetera. Cioè lo slackline non è uno sport estremo, no? Tante volte uno su determinati sport parla di adrenalina. Voi siete, visto che su queste fettucce fate anche, vi chiamo salti, passatemi il termine, o comunque dell'acrovazie, avete comunque... siete legati? Ah sì, sì, no, ma ti assicuro che l'adrenalina c'è. L'adrenalina c'è, ma non c'è il rischio comunque di farsi male. Il rischio no, certo. Tutto in doppia sicurezza. Cioè un'adrenalina sana, ecco. Siamo sempre assicurati con un leash che sarebbe una corda da rampicata, un imbrago sportivo, che ci segue sulla corda che camminiamo. Quindi la corda che camminiamo, tra l'altro, è sempre messa a doppia. Cioè ci sono due corde legate a due punti di ancoraggio differenti. Quindi è tutto in super sicurezza. Però quando sei lì sopra, sempre è la prima volta un po'. Sicuramente, sicuramente. È uno sport anche molto democratico, nel senso che ci vuole poco, no? L'attrezzatura non è... Sì, sì e no. Perché all'inizio ti serve poco per capire che ti piace camminare su una feduce. Dopo, a secondo di quello... di come sei fatto tu, arrivi dove vuoi, insomma. Perché comunque le attrezzature costano... Cioè, è uno sport che costa meno, molto meno di altri. Però comunque per comprare una determinata attrezzatura, almeno mille euro circa, servono. Per avere un buon range di lavoro. Per iniziare invece dal basso. Noi abbiamo visto questa... L'highline... Highline, giusto? Si chiama? Insomma, ha fatto... Parte in posti meravigliosi. Questa... Questa è la pietra di bismanto. La pietra di bismanto. Veramente molto, molto suggestivo. Però si può fare anche a poca distanza dal terreno. A 30 centimetri... Si inizia a 30 centimetri da terra. Perché quando tu non hai le qualità e la capacità di fare determinate cose, non vai a rischiare la vita per niente. Cioè, la slackline è anche la... Principalmente l'highline. Nessuno cammina su una fettuccia se non è capace, oppure non vuole superare la sua paura. Quindi, non... Non è come la moto che se tu non sei capace vai forte e ti puoi fare male. Lì non ci vai. Perché vai nel vuoto. Non... Se tu non vuoi vincere la tua paura, tu non ci vai. Cioè... E quella è la sicurezza che dà a ogni persona della vita. Cioè, non vai a mettere in rischio la tua vita se tu non sei legato. o... Cioè, hai capito? E quindi è... L'highline, secondo me è... Ecco, guarda che stiamo vedendo quello che dicevamo prima, no? Dei trick che uno può fare anche quando è a quelle altezze. Qui sono, diciamo, due... Due discipline diverse, no? Dallo slackline. Cioè, l'highline con anche i trick. Cioè, qui ogni volta si aggiunge... Sì, qua dipende, insomma, dalle filosofie. Certo. Questo è Simon che si lancia a fare dei trick sull'highline, ma non è una cosa che facciamo tutti, anzi. Spesso l'highline è vista più come momento meditativo, con te stesso. E camminata. Sei su una linea. Sei in montagna, c'è vento, può esserci... Ieri, per dirti, pioveva... E dove eravate ieri? Eravamo vicino a San Marino. Ah? Siamo andati a trovare dei nostri amici della Romagna. Poi sono uniti anche ragazzi della Toscana, ragazzi da Verona, Padova. C'era vento, pioveva, insomma, non era facile come giornata. Lì, proprio quando sei lì sulla fettuccia, sei te da solo. E puoi avere... Hai, ovviamente, i tuoi amici che magari ti gasano anche ai punti di ancoraggio. Però è un momento bello meditativo. Diciamo, trickline e highline, invece... Questa, invece, è proprio la classica camminata, giusto, in highline. Esattamente, quello di cui parlavo. Meraviglioso. E questa è più meditazione che adrenalina, magari che ti può dare la trickline sull'highline, o la trickline in generale. Questa è più concentrazione, equilibrio. Voi avete individuato poi una serie di posti, diciamo, di elezione. Certo. Dove solitamente andate magari più spesso che in altri. Sì, sì, sì. Perché adesso, come ti dicevo, magari unendosi un po' tutti da tutta Italia, cerchiamo magari di andare in un posto che possa accomunarci tutti. Quindi magari qualcuno dice, io monto queste linee, e dato che già montare una linea magari si fa nel weekend, è un lavoro che comunque richiede impegno e si va tutti da quella parte. Certo. Sì, è stato tutti insieme. Ed è questo un po' il bello della comunità che stiamo creando. Sì, è una comunità secondo me che si... In tutta Italia. In tutta Italia. Cioè, nel senso, noi siamo pochi dei nostri paesi e la comunità si sta allargando pian piano a tutta Italia. La cosa bella... Anche perché la vostra associazione sportiva è relativamente giovane. Sarà due anni, no? Che vi siete strutturati. A marzo due anni. Eh, a marzo due anni. Ormai compiamo. Insomma, tante cose sono cambiate in questo periodo. Adesso poi vedremo una serie di cose successive. Ma io, per chi non era in Piazza Maggiore a inizio gennaio, volevo, insomma, mostrare queste immagini perché è suggestivo anche per noi vedere, insomma, che anche in città, nel centro di una città, si può portare, si può tirare una linea. Allora guardiamole insieme. Inizio Un è un luogo c'è Un è un laヤ che non si può trovare, ovip Andrea Schiengarica Inizio Un è Jared Behavi right back in the day You better start, start, right now You better start, start, right now In queste immagini si vede oltre alla spettacolarità sicuramente ma anche le facce Dopo è incredibile veramente come... Gioia Esatto Cioè incredibile no in realtà perché credo che chiunque abbia una passione dopo Però c'è proprio questa espressione di gioia ma anche di rilassatezza totale E questa è la sensazione che provate Chiedo prima a Simone Sì, io come ti ho già detto prima Io la uso proprio per mantenermi bene, rilassato fisicamente, mentalmente Mi aiuta tutti i giorni E se tu lo usi come esercizio di tutti i giorni Aiuta proprio nella vita Ti cambia il modo di vedere le cose Se ti avvicini di più a certi aspetti che prima dal mio punto di vista non mi sarei mai pensato di avvicinarmi Accetti di più molte cose Per me è bellissimo È una cosa che... Mi sembra questa la definizione migliore anche per te Esatto Che cosa aggiungere, no? Una definizione di questo tipo, Matteo? Eh, boh, la slackline è... Insomma, è quello che ti può dare l'equilibrio fisico-mentale tutto insieme contemporaneamente Poi lì nel video di Piazza Maggiore magari si vedevano proprio le facce Perché hanno fatto anche un bel montaggio Diciamo un po' il primo video Anche per il primo evento che abbiamo fatto Anche le emozioni che abbiamo provato lì sopra sono state un po' diverse Dai camminare su una montagna O camminare su una piazza con le persone che ti vedono e ti giudicano Insomma, è il vostro desiderio di condividere comunque con altre persone Con altri ragazzi Abbiamo fatto l'associazione apposta Per quello, perché avendo provato questa dimensione meravigliosa È ovvio che voi abbiate voglia anche di dirlo a tutti Eh, certo, certo E infatti fate anche dei corsi, anche per i ragazzini Per, cioè, d'estate So che, insomma, facevate dei corsi in alcuni parchi di Bologna assolutamente Cioè, aperti a tutti, no? Certo Di qualsiasi età, eccetera, eccetera È due anni che partecipiamo a un bando comunale Che si chiama, a un progetto che si chiama Parchi in Movimento E quindi facciamo lezioni da maggio-ottobre Da maggio-ottobre Da maggio-ottobre Sempre di solito facciamo Giardini Margherita e il Parco di Villa Angeletti E ovviamente, vabbè, queste sono tutte informazioni che chiunque può trovare sul nostro sito Certo E penso che anche quest'anno riparteciperemo al bando Quindi riproporremo l'attività anche per quest'anno E nel frattempo, in questa pausa invernale, stiamo tenendo dei corsi alla Jimmy Sport Che è a Casalecchio A Casalecchio In una palestra, insomma, dove diciamo che è una cosa più a 360 gradi sul corpo Perché ci sono i tappeti elastici Tiriamo qualche slack, però facciamo un bel riscaldamento a tutto corpo Però, insomma, è un modo comunque per avvicinarsi Allo slack A questa disciplina E anche a tutto il suo mondo A quello che la circonda Esatto Perché ci sono tantissime cose E' quella la cosa che io vorrei far capire Non c'è solo lo slack Sì, tu hai una voglia incredibile Anche tu Allora, insomma, il Simone in questo momento ha voglia di far capire Potesse passare la telecamera e dire Io vi sto dicendo No, è che viviamo veramente delle esperienze che spesso ci ritroviamo a dire Ma è veramente così bello Cioè, veramente, sono io che è qua, è possibile Averlo saputo prima Ma no, ma sai quante volte mi sono fatto questo discorso Veramente, ma voi come ci siete arrivati allo slack Fino a qualche anno fa, adesso è già un pochino più diffuso, eccetera Però fino a qualche anno fa, insomma, nessuno sapeva cosa fosse Forse alcuni non lo sanno neanche adesso Nel senso che si pensa a una disciplina, ripeto, tipo Te l'hai conosciuto in Brasile Io ho visto un video di uno che si buttava da una montagna col paracadute Quindi mi piaceva la cosa Quindi mi sono avvicinato alla conoscenza di questa corda Si buttava da una slackline, si buttava giù con il paracadute Questa mi mancava E mi sono avvicinato così E ti sei avvicinato E tu invece, Matteo? Io invece stavo facendo la tesi in Erasmus a Barcellona E il mio amico un giorno ha detto Porto la slackline in spiagge E io ho detto, ma cos'è? E poi mi è piaciuto un sacco Poi in realtà ho riniziato più tardi Perché in Italia non trovavo nessuno che la facesse Poi lui mi abitava Ma voi vi conoscevate prima della slackline o vi siete conosciuti? Siamo conosciuti grazie alla slackline Grazie ai social, qualche amico che ci ha detto Ma sai che anche lui fa slackline? Siamo dello stesso paese Mi siete conosciuti? Vedi? Quello che dicevi tu Che a volte uno rimane chiuso nel proprio mondo O magari attaccato ai vari smartphone Eccetera Siete dello stesso paese e non vi conoscevate Beh diciamo che lui gli ultimi 5 anni E li aveva vissuti all'estero Io pure avevo fatto tesi via E poi insomma grazie alla slackline Insomma dicevamo un po' di luoghi che amate di più La pietra di Bismantova è una di queste Giusto? Poi abbiamo visto insomma anche degli altri posti meravigliosi Dove chi magari volesse venire a trovarvi a parte venire sul sito eccetera Quali sono i luoghi più belli secondo voi dove andare? Beh i luoghi più belli diciamo sono un po' tutti Perché poi il bello veramente di fare highlight è farlo in posti diversi Perché poi è bello lo sport Ma è bello farlo in scenari completamente diversi Diciamo che abbiamo dei posti dove andiamo più spesso Magari per praticità O perché lasciamo montate lì le linee O magari ci si arriva prima E sì la pietra di Bismantova è il posto dove abbiamo iniziato tutti Seriamente un po' ad allenarci Poi ultimamente siamo andati anche molto a Spiazzi Che è vicino al lago di Garda Verona che anche lì c'è una bellissima comunità Cioè siamo poi tutti gli stessi sempre E invece d'estate giriamo sempre Abbiamo già fatto un po' Portogallo, Spagna, Francia Facendoci ospitare da tutti gli altri ragazzi Che facciavano sempre questa disciplina Se andavamo a montare la linea insieme e così E quello che avete fatto in Piazza Maggiore In realtà lo avete fatto anche in altre piazze Dico nei centri delle città Sempre per far conoscere questa disciplina Oppure Piazza Maggiore non era la prima volta No no era la seconda Che l'altra volta eravamo andati a? A Bagnonzino Ah, Bagnonzino In Monterosa Street Boulder E prossima piazza avete già individuato? Ma adesso sì, forse ci faremo un progetto Sempre qua a Bologna Sì E a partire Ci ha contattato il proprietario della torre Prendi Parte E quindi tireremo una linea probabilmente da lì E si pensa alla torre della Curia che c'è di fianco E anche lì saranno 100 metri come lunghezza Però sarà completamente sopra Bologna Invece che solo in piazza Quindi questa potrà avvicinarsi un po' più al concetto di High Line Di High Line Insomma, chiunque voglia seguirvi Voi avete ovviamente una pagina Facebook Che si chiama Slackline Bologna SD Giusto? Avete anche un sito Certo, abbiamo pagina Facebook Account Instagram Un sito Una casella email Quindi insomma tutto Quindi sì, ci si può contattare In tutti i modi Insomma, chi si vuole avvicinare a questa disciplina Sicuramente avrà modo di farlo Anche perché mi sembra che voi accogliate Tutti Accogliate chiunque Chi viene e poi porta anche Di questa comunità Le sue esperienze Così magari insomma Voi sicuramente Se andrà in porto Questa nuova camminata sopra Bologna Pubblicherete ovviamente le date Le date sul vostro sito e su Facebook Così insomma Sicuramente incoraggia anche Avere un po' di tifo dal basso Perché comunque vedere persone Che non ti conoscono Che non fa parte della vostra comunità Di slackliner Ma persone che magari passano di lì E che restano a bocca aperta Insomma, credo che faccia una bella impressione Sì Molto Dopo che avete fatto la camminata in Piazza Maggiore Cosa vi hanno detto le persone Che erano lì? Ma molti ci hanno chiesto informazioni Ma in realtà poi dopo Era venuta tutta la comunità Anche quel giorno Noi abbiamo preso Siamo scappati via Siamo andati a fare festa Per festeggiare C'è il terzo tempo anche nello slackliner Giusto? Ok Mi sembra ottimo Questo è già un buon segno Io allora Rimando tutti quelli che sono interessati A magari iniziare a muovere i primi passi Su una fettuccia Ad andare sui vari social E sul sito di Slackline Bologna SD E ringrazio tantissimo Matteo Pancaldi Simone Vaccari Grazie Tra i soci fondatori Nel lontano 2015 Di questa associazione Doveva essere con noi Io lo saluto anche il presidente Dell'associazione Jacopo Pesce Che però Ha avuto un contrattempo Però noi lo salutiamo Visto che siamo una comunità Lo salutiamo dagli studi Grazie anche a voi Che ci avete seguito da casa E la linea torna alla regia Grazie a tutti